Allora, non abbiamo le free multi, male, veramente male questa cosa, vabbè, free ticket, vediamo sempre metodo giappino come sempre, vediamo se è il free ticket, ovviamente, ovviamente col cazzo, eeeh, ops, non si dicono queste parole, eeeh, allora, ovviamente il banner che mi interessa è quello di Agrias, perché giustamente il banner è quello di Agrias, quindi, c'è poco da, c'è poco da cercare, c'è poco da fare, eeeh, vediamo se mi escono FRBT, oddio, ho visto un leggero lagghettino, non vorrei che, Non vorrei Allora, alfino? No, ok, se niente, impressione, impressione mia, niente, scherzavo, ovviamente, non, 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 non c'è niente di... Qui il lagghettino c'è stato, eh, qui il lagghettino c'è stato, qui il lagghettino c'è stato, allora io i token in realtà l'ho già usati per angillo, quindi in realtà non posso andare su Agrias, In realtà di Agrias ho tutto già, vabbè, LD, giusto perché magari ci, magari non ce l'hai Bene, 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 buona, buona la FR di Agrias, buona, almeno, almeno ce l'abbiamo Vabbè, orb azzurra che è orb chiara Con le pull posso finalmente bere, però Sinceramente, però aspetta attenzione, perché dalla orb azzurra in realtà A me sono uscite delle bitti dalla orb azzurra No, non è questo il caso Ovviamente esco sempre perché devo fare il metodo giappino Orb dorata, mannaggia Io invece nelle scelte settimanali sono rimasto indietrissimo, perché non le sto neanche facendo praticamente Cioè, ho finito i verdi Dopodiché ho finito tutto, cioè non sto facendo più niente Evercrisis mi sta letteralmente mangiando vivo Dai BT? No, niente Niente BT Beh, oddio, cercarmi la BT con i tickets sarebbe un po' Sarebbe un po' Un po' da stupidi, sinceramente parlando Oddio, però la BT non sarebbe brutta Ah, quante risorse? No, vabbè Non è questione neanche di risorse Controllo le risorse, invece Allora Io facciamo così Qualche gemmozza la potrei anche tirare in realtà Allora il PD quant'è? 400 Dai, dopo tutto questo tempo mischina Agrias Che fa? Non la pulliamo dopo tutto sto tempo Ecco, orb azzurra già partiamo male Partiamo malissimo Dai, qualche gemmozza per Agrias la tiriamo Oh, attenzione Potremmo aver finito prima del previsto Perché viola magari si trasforma in BT E magari Riusciamo a fare qualcosa di interessante Dai No, niente Ma vabbè, ok Però è un'altra FR di Agrias Però è un'altra FR di Agrias Ora in confronto a Evercrisis Qua su Oper Omnia Spendere le gemme In realtà non mi pesa più così tanto E oddio Anche la FR di Onion Che vabbè, io Onion già ce l'ho completo Quindi Però vedi Io era qua su Oper Omnia Mi sento un po' più tranquillo A spendere le gemme Perché tanto Su Oper Omnia Sono molto tranquillo Che gioco molto easy Molto più easy Essendoci Evercrisis E questo non so se essere una cosa positiva o negativa Perché Mi fa perdere praticamente il focus Di quello che potrebbe essere Noctis Noctis Niente Al fino Eh, vale Va bene Ho fatto un po' di pulizia Altra orb viola Attenzione Allora Se mi uscissero tutte le copie di Agrias In realtà Non sarebbe male Sinceramente parlando È che secondo me Oper Omnia Ormai sa che siccome Sto dedicando più tempo A Evercrisis Si è ingelosito Purtroppo Oper Omnia è un periodo Che si è un po' ingelosito Ecco Vedi Però Anzi però Mi sta dando Le FR di Agrias Quindi non è male Non è male Si è Si è un po' ingelosito Secondo me Si è un po' ingelosito Dico una cosa su EC Come essere amante di Final Fantasy IX Ed essere un poveraccio Ora Ecco La stessa cosa che stavamo discutendo prima Il fatto che Io per esempio Sono Senza risorse ora Perché Minchia scendo sotto le 800k Dopo tutto sto tempo Mamma mia Che sensazione brutta Perdere Questi Queste gemme Sudate Queste gemme Faticate Mi chiamiamo a finire A Pity di nuovo Ma veramente Pure per Agrias Dai Madonna Per Agrias Cioè Dai Per Agrias Pity È un po' Un po' Una truffa Va bene Che ti sto regalando Quando ste gemme Perché alla fine Mi sento buono E chissà quanto ti ribecco Però Cioè Sei un po' Aspetta ma quanto siamo? 380 380 Vabbè L'ultimo pull Quindi Come va Va Eh niente Eh vabbè Dai Ti ho regalato Veramente ti ho regalato Tutte le risorse Agrias Sei veramente Una cosa incredibile Cioè veramente Sei veramente Una gold digger Proprio Mamma mia Vabbè È andata così Dai Però dai Ormai Su opera omnia Ripeto Le gemme Le spendo Molto più Tranquillamente E